Quest'anno quello che vediamo è che abbiamo le imprese che sono scese di 848 unità, quindi di fatto è un dato oggettivo che è un dato che ci fa vedere un numero che scende. Se però analizziamo più concretamente e più nel dettaglio il dato, vediamo che se togliamo le imprese che vengono tolte di ufficio, perché negli anni passati, il dato ci fa vedere un saldo positivo, quindi vediamo una crescita del 0,11%. Questo ci può far vedere il bicchiere mezzo pieno, però vediamo che la crisi in qualche maniera sembra un po' terminata e vediamo che le imprese tendono a risalire leggermente. Altro dato che noi vediamo, che se vogliamo vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, è che la sopravvivenza delle imprese è migliorata. Vediamo le imprese che tendono ad avere meno problemi dopo i tre anni e quindi a sopravvivere di più. Questo è un dato sicuramente positivo e ci fa vedere anche una classe imprenditoriale più preparata e anche delle imprese che speriamo ci possono portare a una maggiore longitudinità. Un altro aspetto che potrebbe essere interessante è il cambio del mix che noi vediamo. Mentre prima il commercio ovviamente era uno dei settori principali, oggi vediamo che si è passati da un mix nel quale c'erano prima il commercio e poi i servizi, oggi abbiamo prima i servizi e poi il commercio. Entrando nei servizi vediamo che sono soprattutto gli servizi che derivano da tutte le attività che erano fatte prima all'interno delle industrie che sono state poi esternalizzate e quindi questo ci fa vedere quindi come ci sono dei servizi che possono essere già avanzati e quindi possono vedere ancora il famoso passaggio dalla società da una parte manifatturiera alla società di servizi. Più appena ci stiamo avviando e questo è un altro dato interessante da poter analizzare. Ultima cosa, si potrebbe dire che è interessante vedere come gli imprenditori stranieri sono quelli che ci stanno aiutando di più nel crescere, continuano a crescere e questo è un dato importante che ci fa riflettere anche sui temi dell'integrazione del nostro territorio.